Un breve video per fare alcune domande che farò alla fine. Nel gennaio del 2021 l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana, autorizzò l'utilizzo degli anticorpi monoclonali per curare il Covid-19. Dopo il parere favorevole dell'Agenzia del Farmaco Europea, EMA, medicinali da usare singolarmente o in associazione contro la proteina spike del virus SARS-CoV-2. Vi linkerò l'articolo dove potete leggere quali sono questi medicinali. Poi, a gennaio del 2022, venimmo a sapere, ce lo disse il dottor Galli, ce lo conoscete, quell'uomo anziano, quel dottore, quello scienziato che ora è in pensione, ci disse, comparendo in tv e sui giornali, che si era ammalato da Covid. Ebbene, ci disse anche il dottor Galli, ex primario di malattie infettive del sacco, che è stato curato con gli anticorpi monoclonali, perché la sua situazione era grave, è una persona anziana, abbastanza fragile a quanto pare, quindi hanno utilizzato gli anticorpi monoclonali. Questi anticorpi monoclonali, come sapete, si sono potuti realizzare grazie alla scoperta del povero dottor De Donno, voi tutti sapete la fine che ha fatto. Grazie al suo plasma iperimmune, sono stati poi creati gli anticorpi monoclonali. Bene, allora, grazie alla scoperta del grande e povero dottor De Donno, migliaia di persone, fra cui anche il dottor Galli, hanno potuto beneficiarne e quindi curarsi e non fare magari una brutta fine. Ecco, meglio così. Ringraziamo tutti quanti il dottor De Donno. Peccato che, come tutti sapete, non è più con noi. Allora vorrei fare una domanda ai nostri grandi dottori, ricercatori, scienziati, come Burioni, Bassetti, Dottor Galli, Pregliasco, Lopalco e tanti altri, naturalmente. Dovrebbero spiegare a noi ignoranti, perché siamo tutti ignoranti di medicina, naturalmente, conosciamo poco, e quel poco che conosciamo a quanto pare non lo comprendiamo, per quale motivo utilizzano il sangue per fare appunto estrarre il plasma di quelle persone che si sono malate in maniera naturale di Covid, che non sono vaccinate e invece non utilizzano il sangue per fare appunto estrarre il plasma delle persone che si sono malate sempre di Covid, ma che sono vaccinate. Quindi, se sono vaccinate dovrebbero avere gli stessi anticorpi che hanno le persone che si sono malate di Covid, ma non sono vaccinate. Però non è così. Utilizzano solamente il sangue delle persone che non sono vaccinate e che hanno contratto la malattia SARS-CoV-2 del Covid, da lì prendono poi il plasma e fanno gli anticorpi monoclonali. Ecco, questa è la mia domanda. Vorremmo sapere per quale motivo c'è qualcosa che impedisce di usare il sangue di coloro che sono vaccinati e guariti, naturalmente, grazie al vaccino del Covid-19? Grazie, siamo qui in attesa.